Assolutamente no, non siamo chiamati a far morire e un medico ha un rispetto, dovrebbe avere un rispetto assoluto della vita. La vita è un dono e nessuno è in capacità di decidere della vita o della morte di un'altra persona. La vita è sacra. Quello che siamo chiamati a fare è sostenere fino alla fine la vita, ovviamente senza accannimento terapeutico, cioè se cominciamo con le nostre cure a far soffrire ancora di più la persona, questo non lo possiamo fare, questo è accannimento terapeutico. La Chiesa su questo è molto chiara, dice che non si può togliere il cibo, non si può togliere l'idratazione e dovremmo aiutare a evitare al malato il dolore, ma la cosa più importante è l'accompagnamento della persona. La persona non deve sentire di essere un peso, noi dobbiamo amarla fino alla fine, in particolare nella sua debolezza, gli dobbiamo essere vicino, gli dobbiamo esprimere il nostro amore. A questo serve le cure palliative.